22 anni e non sentirli. Il giro polistico del lago di Mergozzo, organizzato da Dimensione Sport, si conferma tra le gare più spettacolari e partecipate del nostro territorio. Una corsa unica nel suo genere che prevede il giro completo del lago che dopo un paio di chilometri sulla litoranea si getta sulle rive sabbiose fino al duro strappetto che porta ad imboccare il panoramico sentiero azzurro al termine del quale la suggestiva piazza Cavour, il salotto di Mergozzo, accoglie i corridori. A nastri di partenza si contavano ben 545 polisti, tra i quali i presenti più forti atleti del territorio, a testimonianza del prestigio che ricopre l'evento tra i runner locali. Il primo a giungere alla traguarda è stato l'ossolano Roberto Giacomotti della Pegarun, vincitore sabato scorso della Betama Super Race di 40 chilometri, che dopo i 7 chilometri del percorso ha fermato il cronometro in 25 minuti e 14 secondi. Staccato di 33 secondi Luca Ronchi del Sport Project, che come Giacomotti aveva partecipato alla gara in Formazza vincendo sulla distanza dei 22 chilometri. Terzo gradino del podio per un altro trailer, Riccardo Borgialli giunto a traguardo con un ritardo di 42 secondi, mentre il compagno di squadra Marco Giudici, vincitore della passata edizione, ha dovuto accontentarsi della quarta posizione. Altri due atleti Sport Project in quinta e sesta posizione, rispettivamente Carlo Bonnet e Marco Gattoni. Dietro di loro si sono messi in luce i giovanissimi Cristian Piana della Gravellona VCO, settimo, e Leonardo Zanoli della Cardese, ottavo. In campo femminile la prima posizione è stata di Paola Varano del Bognanco, che ha fatto registrare il cronometro di 30 minuti e 12 secondi. Alle sue spalle, Michela Pieri, atleta della rappresentativa nazionale della Spartan Race, che ha accusato un distacco di 35 secondi, terza 1 minuto e 10, Agnese Pirazzi. Alla termine della corsa, come da tradizione, in molti non hanno resistito alla tentazione di tuffarsi nel lago in cerca di un po' di refrigerio. La settimana prossima VCO in corsa cambia lago e passa a Maggiore, martedì si corre sull'isola Pescatori, mentre giovedì un altro evento di grande richiamo con la corsa d'estate che si corre a Ferriolo con il percorso completamente pianeggiante che si snoda all'interno del parco di Fondotoce.